Sono Paolo, seguo come account le aziende associate soprattutto della città di Milano ma anche qualcuna fuori. Una delle proposte che faccio sempre quando incontro un associato e quindi lo faccio anche a voi è di partecipare ai nostri incontri sul territorio per permettere agli associati di conoscersi, confrontarsi e fare rete. Perché quando incontri un altro imprenditore hai sempre modo di avere una nuova idea, sviluppare un nuovo progetto, immaginare qualcosa che potrebbe essere utile da fare insieme. È per questo che invito tutti voi a partecipare ai nostri incontri.